salve community e bentornati nell'Effaverse oggi siamo qui per recensire Venom The Last Dance siamo arrivati all'ultimo capitolo della saga su Venom appartenente al Sony Spider-Man Universe che ci ha dato talmente tante gioie che non sto qui nemmeno a delencarvele e questo finale con me sigla vi dico subito che partiamo con la recensione non spoiler e poi andiamo agli spoiler alle post credit e in retroscena di come doveva essere il film e di quello che hanno combinato quindi per adesso non spoiler avrete capito dal mio post su instagram diverse cose circa il mio giudizio su questo film io ho cercato di entrare in sala con le aspettative sottoterra nel senso che non era un film che prendevo sul serio perché i trailer erano erano onestissimi nel farti capire senti qui non ci stiamo più nemmeno provando è tutta una trasciata quindi dico vabbè dai nel il trash divertiamoci ho visto il film anche con il buon Matiocchi l'uomo che sapeva troppo grande incontro per la prima volta dico vabbè dai prendiamola bene divertiamoci no non mi sono divertito le trashate sono quasi tutte nel trailer si può dire quindi non a parte qualcosina non c'era davvero di che godere anche in quel senso abbiamo una trama banale poi magari parleremo di retroscena nella parte spoiler innanzitutto spiegoni 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 si introduce una mitologia riguardo venom e i simbionti al terzo film e si vede che sono sono pazzi e quindi bisogna spiegare perché il pubblico non sapendo niente bisogna in questa ore 40 condensare tutto quanto e a volte certi spiegoni vengono ripetuti più di una volta cioè praticamente ogni volta che i personaggi vengono messi a parte lo spiegone dura tantissimo perché lo spettatore deve capirlo che certi meccanismi funzionano in un certo modo e quindi se ti perdi questo dialogo noi te lo ripetiamo altre volte perché tu non devi dimenticartelo lo sai perché perché poi quando arriva la post credit che tradisce tutto quello che noi ti abbiamo spiegato è quindi poi ti perdi qualcosa invece così è più bello no fatto di sovverchiare le aspettative di quello che ti hanno comunque raccontato loro non lo so e ormai si fa così si cerca di sovverchiare le aspettative ma andiamo con calma la sony col suo suo ha sempre cercato di giocare sul sull'amore dei fan prendendoli in giro sistematicamente ha capito anche grazie ai pregressi dei marvel studios che hanno portato risultati che i fan sono attivi sui social sul web vogliono parlarne e sono capaci di rimbalzare qualsiasi cosa qualsiasi cavolata che sia dai trailer dai falsi leak e dalla presenza o meno di un determinato personaggio se inserisco un personaggio due mesi fa la gente è capace di sprigionare un passaparola e una serie di speculazioni incredibili cosa che è successa anche col primo trailer di questo film ma ne parleremo nella parte spoiler per evitare di aprirci troppo in pratica la sony ha fondato una cultura dell'hype per ciò che non c'è o al massimo che forse arriverà tra non si sa quando di base non ha mai creato hype per quello che c'è per quello che è tangibile per quello che è in questo momento e quindi tu dici no ma sarà bello il prossimo vedrai che sarà bello il prossimo c'è chi magari adesso sta dopo aver visto questo pensa ma craven vedrete che è un po così parlando di protagonisti in questo film e vabbè ormai tomardi a fare di brock ma io non credo a me fa una pena cioè si trascina per tutto il film anche lo vedi camminare poi a un certo punto si dà una ripulita bella diciamo ma vedi che tomardi smoking sta bene invece poi c'è di un dimesso un giorno ma manco anche quando recita non non ce la fa non ormai è andato e credo si sia anche rotto le balle perché ha detto questo è l'ultimo basta non ne voglio più saperne sta affossando la carriera è vero che li scrive produce tutto ma credo si sia reso conto anche forse in ritardo del fatto che questi film nuociono più che giovare i personaggi vorrebbero presentarteli in un certo modo abbiamo chi ha passati snyderiani con tanto di flash perché a un certo punto noi a noi scoppiata la risata mentre guardavamo perché veramente ce l'hanno fatto vedere cosa sta succedendo in pratica i personaggi perché noi vediamo diverse situazioni man mano che si vanno alternando e come se stessero cambiando film ognuno degli attori sta recitando in un film diverso che ne so il personaggio ma è proprio di una serietà incredibile così come lo staff degli scienziati si vedono dal trailer anche loro sono in un film diverso loro sono preoccupati sono presi sul serio sono veramente presi da quello che sta succedendo poi si passa a Eddie e Venom con l'acqua di rosa è completamente imbriago e va bene così tra l'altro imbriago non lo dico a caso perché è lo stesso Eddie Brock che parla di dopo sbornia per quasi tutto il film cosa c'è rispetto magari ad altri film su Venom ha una consapevolezza di essere l'ultimo film quindi hanno cercato di inserire una componente emotiva che vuole anche commuoverti c'è una sorta di costruzione minima che deve portarti al finale quindi commuoverti nell'epicità di quanto sta avvenendo e cercano anche di creare un ponte per empatizzare proprio con Eddie con Venom e porto con gli altri e scamotage che hanno usato grazie anche all'inserimento della famiglia Hippie a caso che fa poi a un certo punto forzatura a caso però vabbè posso no non posso capire non capisco a livello tecnico la cgi in alcuni momenti è un pochino migliorata anche perché in alcune sequenze si gioca alla luce del sole però poi di base è quella che è perché in alcuni momenti è terribile c'è nulla che sembra ma avete presente quando prendevamo in giro Steppenwolf nei reshoot di Justice League no quello era una cosa stupenda e per quanto riguarda il ritmo la prima parte il primo tempo è davvero noioso fatto di spiegoni di dialoghi che durano un sacco c'è una scena che abbiamo visto nel trailer dove Venom si ritrova in un magazzino e alcuni tizi gli danno fastidio e questo tanto gli danno fastidio tanto lo minacciano che poi diventa Venom e comincia tipo a a magnarsi tutti la preparazione a quella scena dura tantissimo ma ma tantissimo c'è veramente poco rispetto a quello che non abbiamo visto nei trailer infatti meno male si sono fermati a due e quindi questo ritmo così frammentato spezzettato in realtà anche nel secondo se la tira tanto mi fa preferire invece il ritmo serrato della furia di carnage capolavoro anche quello ci mancherebbe quindi sono combattuto mi piace la componente emotiva il tentativo di componente emotiva che hanno voluto dare al protagonista finalmente però avrei preferito qualcosa di più asciutto e quindi penso ma la furia di carnage forse nel suo delirio mi ha intrattenuto di più mi ha divertito anche nelle cagate che ci sono in quel film quindi questo film non riesce a fare bene nemmeno quello nella colonna sonora va menzionata perché perché c'è un momento incredibilmente epico che ci ha fatto sussultare ci ha emozionato infatti noi abbiamo detto ci siamo emozionati tantissimo perché la colonna sonora è di un epico pazzesco che ti fa sembrare che stia succedendo chissà cosa e invece a schermo vediamo banalmente una jeep che sta entrando in una base militare non so per il resto è una sognata una sognata che si contraddice continuamente anche sul ritorno di personaggi che avevamo visto nel film precedente il protagonista è un fuggiasco l'avrete anche se vince sempre dai trailer e fa di tutto comunque per farsi trovare perché le regole che hanno imbastito potrebbero permettere a eddie brock di scomparire per sempre ma in quel caso non si creerebbe tensione sul fatto che sia braccato quindi cerca in tutti i modi di creare di creare delle situazioni ce n'è una ragazzi chi ha visto il film l'avrà già capito poi si sorprende anche quando lo trovano che ha fatto di tutto rafforzature e trash poco divertente ci troviamo anche una post credit sono due però la prima è quella che secondo me proprio tradisce tutti gli spiegoni appunto ripetuti nel film più volte perché tanto la sony su spider-man ragiona così se devi fare qualcosa la fai non importa di costruirla di scriverla bene di dargli un crescendo perché tanto quello che c'era ieri non c'è oggi e viceversa tutto è a seconda del trend quindi ma lo stesso nulla è stato inserito proprio perché c'è fino a ieri non solo cagava nessuno poi l'hanno inserito a vedi c'è nulla come la gente non riesca a capire come che riesca ad esaltarsi con poco con così poco poi alla fine della fiera le aspettative perché io ho consigliato in questi mesi fino a ieri praticamente di settare le aspettative proprio sulla trasciata sui trailer onesti cioè craven si prende molto sul serio molto più sul serio rispetto a venom the last dance ma nonostante ciò a un certo punto ho detto ma quando finisce non no non mi ci sono divertito non è come speravo non è come non mi nemmeno mi incavolo come fai ad incavolarti con un film del genere non mi incavolo non riesco a dirvi a che merda che schifo e vabbè poi arrivati al terzo come fai nemmeno non riesco nemmeno ad avere quella spinta violenta anti venom ma chi se ne frega c'è ormai è quello l'avevano sfanculato già al primo film il personaggio però è venuta a mancare anche la trasciata e finisce così un ultimo ballo che significa poco e lascia veramente poco le porte aperte sono talmente bland e con una pill pari a zero gli ultimi frame sono anche un po imbarazzanti e mi lasciano però con l'amaro in bocca perché sinceramente ho immaginato e pensavo per questo eddie brock di tom ardi secondo me sotto fai ghi avrebbe avuto tutt'altro lustro secondo me staremo parlando di tutt'altro e dopo la visione di questo film ennesima prova di quello che sony riesce a non fare col brand di spider-man senza i marvel studios e al pieno delle loro forze posso dire che anche il peggiore prodotto mcu ha molta più anima di queste porcherie sono pellicole senza anima e senza amore e credo che sia il caso di mettere un bel punto perché ormai sta diventando veramente l'imbarazzo ormai era morbius adesso è provo quasi pena per tutto questo sono curioso per il box office perché il film ha bisogno di circa 450 milioni per entrare nei costi non è costato tanto anche perché i reshut ci sono stati ma molto pochi perché alla fine quel poco che hanno aggiunto è stato fatto in studio in un pomeriggio e il reshut a new york qualcosina qui e lì sempre in studio perché si vede che in alcuni momenti nelle scene di raccordo ci sono proprio questi green screen sparati tagli di capelli sospetti la parte non spoiler finisce qui io vi chiedo di lasciarmi un like se questa recensione vi è piaciuta è stato di iscrivervi al canale di seguirmi in live sono aperti gli abbonamenti ieri vedendo il film forse la l'emozione più grande è stata incontrare i miei amici e colleghi dopo tanti anni a fare live quindi è stata un'emozione incredibile quindi a prescindere dal film è stata una serata fantastica bello 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 e bello non il film è bello tutto il resto va bene così fatemi sapere la vostra se non andrete a vedere mi raccomando gli spoiler sapete che rivelazioni però andiamo alla parte spoiler di corsa 3 2 1 via il film si contraddice continuamente andiamo con ordine intanto lo spiegone perché vi ho detto che il film è pieno di spiegoni e comincia proprio con uno spiegone infatti parte con null che dice io sono null figlio di khmer della tribù di star proprio uguale inserito a forza da far schifo con questa sequenza che fa veramente accapponare la pelle anche dal punto di vista della cgi si vede che proprio inserita negli ultimi mesi per cercare di dare importanza a questo film che era veramente blando dice se c'è null vedete che vedrete che i fan si esaltano e cominciano a ricamare sopra spider man 4 situazioni varie vedrete che potremmo magari sfangarla al box office esattamente come abbiamo fatto con venom 2 giocando con le ambiguità sulle ambiguità riguardo spider man no way home ormai loro giocano così il re dei simbionti ormai l'avrete capito non interviene mai lui sta seduto lì ogni tanto spunta a volte ci sono ripetizioni della stessa scena che ci hanno fatto vedere all'inizio però il compito che gli viene dato è praticamente quello di tradire tutto quanto viene narrato nel film quando poi arriva la post credit che l'incipit è il seguente la chiave per liberarlo nasce dalla simbiosi tra eddie e venom dopo che venom ha riportato in vita eddie perché è morto nei film precedenti e quindi si è creato il codex questa specie di chiave appunto che viene trovata sulla terra e null manda questi xenofage a cercarla nell'universo trovatela perché sicuramente ce l'ha un simbionte de mengia prendetela e venom ce l'ha perché è successa questa cosa qui bene per evitare che null si liberi o muore eddie o muore venom e quindi si va avanti negli spiegoni e knoll perché lo chiamano knoll nell'assoniata senza senso e infatti poi si vede malligan che doveva essere morto invece no riescono a salvargli la vita grazie alla simbiosi al simbionte perché dicono che hanno trovato finalmente un umano compatibile con la simbiosi perché è raro in modo da poter parlare con questa creatura grazie anche al corpo dell'ospite per capire quali sono le loro intenzioni e vengono a sapere quindi di knoll e se c'è già venom che aveva fatto lo spiegone e knoll che aveva fatto lo spiegone inizialmente anche qui si fa un altro spiegone perché gli altri umani devono saperlo quindi è la terza volta che si fa lo spiegone e non ha senso comunque che a parte che malligan viene ucciso poi come una merda dall'oxenophage però com'è che lui era l'unico umano in quel momento ad essere compatibile con la simbiosi quello che almeno i militari avevano trovato se poi nel finale in realtà tutti i vari simbionti si legano a chiunque a cani e porci senza problemi solo per fare il finalone con tutti i venom che poi servono veramente a poco cioè la regia forse è meno confusa di quello che succede in chiesa in benon 2 però boh dovevamo gasarci per questo non lo so c'è veramente un tentativo disperato però intanto boh qualcuno può spiegarmela sta cosa come si è passati da malligan l'abbiamo trovato dobbiamo tenerlo in vita per poter parlare col simbionte quindi a livello umano è tutta una merda perché quello stava morendo l'hanno messo lì a tipo l'hanno messo lì tipo all'ospizio l'hanno pure vestito come uno all'ospizio compendio di forzature troviamo anche eddie e venom che ballano con la signora chen che è una gnocca incredibile che a un certo punto io credo che o a eddie o a venom qualcuno di due insomma balla nonostante eddie gli dice guarda che queste creature riescono a localizzarci quando tu diventi totalmente me quindi quando tu assumi una trasformazione che ricopre completamente il mio corpo il codex manda un segnale alle creature che si precipitano in maniera non velocissima quasi col teletrasporto su di noi e questo dice che me ne frega io voglio ballare a un certo punto arriva lo xenophage oh cavolo mi hanno trovato affanculo perché come dicevo nella parte non spoiler il patto è che se eddie non si trasforma completamente in venom lo xenophage non lo vede certe volte lui si toglie il simbionte e c'è lo xenophage lì che non vede più niente cazzo ce l'hai davanti comunque eccetera è lì però no non è lui e non vede più niente sta lì a guardare e prende se ne va quindi in realtà potrebbe non farsi trovare mai e invece cercano degli escamotage talmente stupidi per creare tensione e vabbè poi abbiamo la dottoressa con il fratello che è stato fritto da un fulmine e ci ce lo dicono con un ce lo fanno vedere con una con un flashback sneideriano con questi fulmini bruttissimi in cga sembra 300 forme e c'è questa cosa di come a un certo punto diventa flash può essere che suo fratello è barry allen e invece no questo fulmine la porterà poi ad avere un simbionte che va veloce quindi sempre flash è sempre quello xenophage e come vi dicevo ci sono almeno tre film diversi quello che succede nell'area 51 è un altro film questi preoccupati che vogliono sapere di più taylor che è tutto rincoglionino lì che è proprio serio ai miei uomini il destino dell'universo non avete capito la gravità della situazione parla per questi per queste frasi fatte poi la trama con la famiglia hippie e quello che succede con eddie sono tre film diversi ognuno diverso a un certo punto un film non sa più che cosa fare perché poi c'è il finale con venom che si scioglie nell'acido come a frankie topo di fogna che voleva farci piangere e poi hanno inserito pure i reshoot finali perché sono dei reshoot fatti qualche mese fa di eddie brock che cammina per new york no dove rivive tutti i momenti con venom che è morto forse la cosa migliore del film anche se poi c'è un po di ambiguità al riguardo che manco in un posto al sole dovevamo commuoverci forse mi sono anche commosso no vabbè commosso no però sapete è che la mano in bocca io stotto mardi l'avrei usato in maniera molto diversa e credo anche fa di poi vabbè tutta la parte vi dicevo i dialoghi enormi la famiglia che canta tutta space odditi con la chitarra tutta salutiamo infatti peter parker mary parker zio bene zia mei perché erano una famiglia di hippie ed è incredibile come la sony nei trailer riesca ancora a giocare con l'ambiguità e riesca a manipolare in maniera così semplice la le menti dei fan anche per il pezzettino di simbionte che si vede nel tre amo è quello di no way home non è quello dell mcu che stanno facendo c'è incredibile come gli basta davvero poco e mi ricordo che molte persone quando avevo fatto l'analisi del trailer mi dicevano eh ma tu che ne sai tu di questo di là io ovviamente più o meno sapevo la tra guardate che questa è una sognata ragazzi ancora non li conoscete dopo venom venom 2 mordus madame web ma davvero e infatti non era niente penso che adesso la gente ci crederà e qui vi dico abbonatevi alle fverse per non restare delusi a questo punto da aspettative inesistenti che sono create ad hoc e con l'ambiguità sono fatte apposta per manipolarvi e adesso passerei alle post credit anche perché ho avuto un po d'ansietta sulla seconda adesso vi racconto un po intanto la prima con la morte di venom il codex è distrutto la minaccia di null è stata scongiurata non può liberarsi arriva la post credit e vediamo null che dice minchia adesso faccio il culo a tutti adesso distruggo il mondo adesso distruggo gli universi nessuno potrà fermarmi manco sell parlava per queste frasi fatte quindi si è liberato ma come ma tutto il film ci ha raccontato che se distrugge il codex lui non può liberarsi com'è che comunque si libera ugualmente nella post credit la sognata essendo che loro volevano inserire nulle stanno premendo per inserire nulle in spider man 4 perché ancora capirete anche voi che la sceneggiatura di spider man 4 non è pronta ancora la stanno scrivendo hanno inserito nulli in questo film a forza in modo da dire essendo che un preludio spider man 4 venite a vedere questo film perché poi arriveranno cose sempre così arriveranno cose incredibili perché dovevano dare importanza a questo film e quindi ci hanno ficcato nulle circa sei mesi fa perché non c'era ragazzi non c'era c'era lo xenophage che arrivava sulla terra si diceva ma li hanno mandati oppure erano addirittura si diceva erano i nemici che avevano sterminato i simbionti punto i cacciatori naturali dei simbionti gli xenophage senza nulle dietro perché nulle perché dovrebbe comandare gli xenophage quindi non lo so se poi nei fumetti c'è questa cosa magari ditemelo nei commenti però di base per il film per come te l'hanno impostato tutta sta mitologia al terzo film è troppa e non ha senso e quindi in tutti i modi si cerca di far brillare i film dello su appoggiandosi come un parassita come un simbionte parassita a quello che succede con i film dei marvel studios loro cercano e come quando hanno cavalcato appunto il successo di no way home hanno inserito quella post credit perché venom non doveva passare da questa parte gliel'hanno ficcato uguale ma non doveva passare da questa parte venom se pensiamo al all'incantesimo di strange la seconda post credit è quella che mi ha fatto sussultare da morire quando ho letto la descrizione qualche mese fa ero preoccupato a bestia perché mi era arrivata leggo proprio la descrizione che vedevamo sto barista il barista no di no way home che qui è diverso perché c'è i capelli diversi perché un altro universo è che camminava in una landa desolata con una fiala rotta nel bel mezzo di questo deserto post apocalittico dico la sony l'ha fatto di nuovo perché la mia mente ha viaggiato dico guarda che questi bastardi hanno inserito il loro battle world per poter giocare sempre con spider man 4 perché tanto poi quella fiala sarà il venom o comunque il simbionte che si attaccherà al peter parker di tom holland poi nel battle world in modo da poi in modo da portarci poi a secret wars dico l'hanno rifatto infatti stavo esplodendo di rabbia nei mesi insomma avete visto che nei social mi sono comportato in maniera un po strana infatti la gente che gli è venuta l'ansia anche perché la sony aveva deliberatamente ora lo posso dire cazzo aveva deliberatamente fatto girare una voce all'interno dello studio che tom holland doveva fare doveva avere un cameo in venom the last dance non era vero intercettando quella voce perché mi è arrivata sono esploso di rabbia poi mi è stata smentita qualche circa una settimana più tardi o giù di lì però dico se hanno messo nulla hanno messo quella post credit comunque spider man 4 la sony ha vinto e multiverso collegato a nulla a tutto quanto e quindi mi ha messo in crisi cosa si vede veramente in questa seconda post credit c'è questo barista che cammina tra le macerie ma sono le macerie dell'area 51 che è stata distrutta alla fine del film si la fiala rotta sotto intende che in realtà venom è vivo quindi forse nulla si riferisce al fatto che ancora vivo però allora perché si stava disperando quando si stava sciogliendo nell'acido non ha senso inutile trovarci senso però il barista si trovava lì perché era stato portato via da taylor quindi ci sta che alla fine del film si libera e trova tipo tutte volevano fare la battuta di questo poverino che si ritrova nel bel mezzo del deserto e meno male ecco perché le cose vanno viste e non solo lette perché c'è la possibilità davvero di farti venire nasin come nasin come come a me è successo negli ultimi mesi ed è stato difficile anche mantenere la poker face perché non avevo non ero sicuro al cento per cento quindi dico meglio non sbilanciarsi infatti questo posso dirlo adesso io la seconda post credit non ho voluto condividerla nel gruppo degli scoop non ho potuto fare a meno di parlare di tom holland però quella cosa lì non ho voluto proprio condividerla perché la prima post credit sì ma la seconda no non riuscivo mi stava venendo mi stavo sentendo male e per fortuna non c'è niente il film termina con una sorta di passaggio di testimone la dottoressa eredita questo simbionte magari si vuole fare un una sci venom quindi si continua il brand al femminile però che appeal dovrebbe avere boh non lo so dopo aver visto il film comunque ho delle sensazioni riguardo a spider man 4 ma non voglio allungare troppo questa recensione quindi farò un video apposta spoileroso di venom the last dance dove ci ficcherò un po previsioni riguardo a spider man 4 e a quello che potrebbe non esserci in spider man 4 a dispetto di quanto stanno dicendo diversi insider quindi andiamo adesso ai retroscena avrete capito che il film non era stato pensato così la trama iniziale quando l'hanno scritta vedeva venom sempre braccato dal governo che prima combatteva contro toxin perché sì nel finale di della furia di carnage malligan non era morto diventava anche lui un simbionte aveva anche lui un simbionte e poi finivano per allearsi in questa sorta di buddy movie si scopriva infatti che il personaggio di chiwe teleijofor che era sempre orwell taylor avrebbe guidato questo progetto segreto del governo dove grazie simbionti avevano creato una creatura capace di distruggerli perché vedevano nei simbionti una minaccia soprattutto dopo quello che era successo nella furia di carnage senza contare quello che era successo anche nel primo film di venom creando lo xenophage si squinzaglia quindi la creatura alle calcagne di venom e toxin avremmo visto altri simbionti comunque venivano distrutti dalla creatura finendo poi per allearsi contro la creatura che rompeva gli argini sfuggiva al controllo e diventava una minaccia per l'umanità e quindi si cercava di riparare a questo casino fatto dai militari era questa la trama alcuni potrebbero dire che trama di merda meglio questa personalmente se proprio dovevi fare una sognata forse era anche più solida avremmo visto magari delle dinamiche più interessanti nella sua semplicità invece hanno preferito fare questa trama dove gli xenophage erano al servizio di qualcuno poi ci hanno inserito nulle negli ultimi mesi hanno chiamato Andy Serkis a lavorare di motion capture proprio per inserirlo a forza infatti la cgi è terribile che manco la ps2 cioè davvero come vi dicevo prima quando knoll viene menzionato ci sono problemi di color correction è come se fosse leggermente diversa i capelli tagliati sono diversi perché è frutto dei reshoot perché inizialmente anche con questa trama con gli xenophage che arrivavano sulla terra non veniva minimamente menzionato quindi poi ci sono stati dei reshoot ulteriori per inserircelo e creare un ponte per dire visto abbiamo messo nulla spider man 4 venite a vedere venom the last dance che merda e poi la chiusa profonda l'hanno voluta girare a new york per per far capire dai mettiamogli qualcosa di emotivo e poi uscendo le foto dal set alcuni speculeranno che eddy si trova a new york quindi c'è spider man venitelo a vedere questo film io ormai sta diventando un meme dai tempi del murales cancellato in morbius e c'è ancora chi dice no ma guardate che sony se farà un film su spider man lo saprà trattare non sa trattare nemmeno questo è il massimo che può fare lo dicevo con madame web lo dico anche qui a questo punto forse madame web è meglio di questo questo è venom the last dance fatemi sapere la vostra ditemi se preferite questa trama rispetto a quella che era stata pensata inizialmente ok è un cadavere che ormai si trascina questo sotto martedì si è rotto le scatole come vi dicevo fare un video un po per parlare delle intenzioni di faeghi di quello che potrebbe essere spider man 4 nel compromesso e che dire sono sono stanco lasciate un like se questa parte spoilerosa vi è piaciuta iscrivetevi vi voglio bene grazie per avermi riaccolto dopo lo stop il trasloco e tutto sono contento di aver ripreso con le live anche se ancora sto sistemando la schedula lo ammetto ci sono volte che ancora dico sì ci vediamo domani poi non succede quindi ancora sono in fase di assestamento però vi ringrazio sempre per tutto l'affetto tutto quanto noi ci vediamo sempre qui e niente va bene così e sony non vedo l'ora di vedere kraven eppure rete dar ripo f chiude